Ancer Giocattoli è Mega Toys Ancer, il punto di riferimento ideale per far felici i più piccoli. Ancer lo puoi trovare a Catanzaro, in piazza Serravalle 14, in via Mario Greco 201. E a Faroleto Antico, incontrata Garrube, nei pressi del parco commerciale Due Mari. Da Ancer puoi trovare tutte le migliori marche, un vasto sortimento di giocattoli e tutto per la prima infanzia. Porta i tuoi bambini a visitare le nostre esposizioni, sarà per loro un'esperienza indimenticabile. Abbiamo aderito a questo invito che ci è stato fatto dal FAI nazionale e siamo infatti una delle 120 località aperte che hanno come ospite d'onore Augusto, perché quest'anno ricorre il bimillenario della morte di Augusto. Ci sembrava che la presenza di Augusto potesse essere molto significativa, così come lo è, nel Parco Scolacium. Questa è stata anche l'occasione però per far vedere il parco ai tanti, immaginiamo, cittadini catanzaresi e non che vorranno accompagnarci, vorranno farci visita nelle giornate del 22 e del 23 marzo, appunto nelle giornate di primavera del FAI. Per questo abbiamo messo in campo veramente quest'anno una squadra, una squadra fatta di oltre 200 apprendisti ciceroni. Gli apprendisti ciceroni, questo progetto ormai collaudato negli anni da parte del FAI, sono i ragazzi delle scuole. Noi abbiamo ragazzi di Catanzaro, ma quest'anno anche di Soverato, che appunto hanno voluto fare con noi questa esperienza ed lo faranno non solo in italiano, ma anche in inglese ed in francese. Per l'occasione, devo dire, abbiamo avuto l'appoggio delle istituzioni. Per esempio l'AMAC ha previsto dei pullman dedicati per le giornate soprattutto del 22, con partenza dall'area del pugliese di Catanzaro. La soprintendenza ha molto puntato anche sul parco di Scolacium, in senso più stretto e quindi manutentivo, in senso di ricerche partiranno i nuovi scavi che amplieranno ancora le ricerche sull'anfiteatro e miglioreranno approfondimenti nell'ambito del foro. E quindi stiamo puntando proprio da un punto di vista più strettamente scientifico sull'ampiamento delle conoscenze e nello stesso tempo la manutenzione dell'esistente. Una bella iniziativa questa del FAI, del Fondo per l'Ambiente Italiano, le giornate di primavera quest'anno al parco Scolacium. Il tutto nell'ottica di una valorizzazione del territorio, ma anche della conoscenza attraverso i ragazzi. Ecco perché il Comune di Borgia ha dato il patrocini a queste iniziative e siamo molto lieti di poter ospitare tanti ragazzi da tutta la Calabria e non solo. Solo attraverso la conoscenza di un sito e di un luogo si può avere la memoria storica e si può capire il valore e l'importanza della protezione, della tutela, ma anche della valorizzazione. Noi stiamo interagendo con la sovrintendenza, ricordo il parco e territorio dello Stato, ma la sovrintendenza ha grande apertura verso il territorio, verso il Comune e noi lo valorizziamo intanto attraverso le iniziative estive dell'Armonia d'Arte Festival, ma con tutta una serie di attività e di opportunità che attraverso il parco Scolacium pensiamo di veicolare. Grazie.